Sono il dottor Giuseppe Quarto, sono urologo e andrologo, gestisco l'ambulatorio di urologia e andrologia qui da Geomedical. Ho fatto la specializzazione in urologia e andrologia a Napoli, in seguito ho conseguito due master, uno in chirurgia robotica presso l'Università di Milano e un altro invece in andrologia presso l'Università di Trieste. Attualmente sono dirigente medico presso l'Istituto Tumori di Napoli Fondazione Pascale dove appunto mi occupo di quelle che sono le patologie urologiche e andrologiche. Io preferisco curare la persona e non solamente il sintomo perché molto spesso, specie per quanto riguarda le patologie urologiche o andrologiche, c'è anche una componente emotiva, il paziente vuole essere ascoltato ed è importante che il medico sia anche un grande ascoltatore.